Stavattina, dopo mesi e mesi, sono tornata a praticare il mio amatissimo Pilates e rispetto ai mesi scorsi voglio sicuramente essere più costante con gli allenamenti e speriamo di farcela quest'inverno. E siccome sono un po' fuori forma, queste prime volte servono a risvegliare la muscolatura, dopodiché inizieremo con gli allenamenti classici per rinforzare schiena, addome e gambe. E a proposito di sport, domani mattina a City Life a Milano passerò anch'io a trovare i miei amici di Adidas per l'evento Vanderlass, quindi per chi ci sarà ci vediamo lì. Prima di andare a mangiare, intanto Enea è giù con Betty, tra l'altro perché mi ha chiesto Enea oggi sta un pochino meglio, questa notte è andata abbastanza bene rispetto alle precedenti, la febbre c'è ancora ma a me si è abbassata, oggi è il terzo giorno di febbre però diciamo che non è così alta come gli altri giorni e anche lui ha cambiato espressione, ride di più, ha più forza eccetera. Pianino cognomo Ciao Skype! Skype! Volume 80! Ciao Skype! Buonanotte! Ciao Skype! Sì tu chi è che qua? Sì tu chi è che qua? Sì! 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 Grazie a tutti